Audi Triad è l'auto pensata per il professionista. Le abbiamo collocate in uno scenario che potrebbe essere quello del 2030 in cui abbiamo ipotizzato che ci sarà sempre una maggiore necessità di strumenti tecnologici innovativi in grado di aiutare l'individuo nello svolgimento delle proprie azioni. Audi Triad nasce pensando questo concept come un centro di controllo, centro di controllo costituito da una postazione centrale, quella dell'utente principale, attorno alla quale vi sono dei device tecnologici come ad esempio una dashboard che percorre longitudinalmente l'abitacolo e dei braccioli posti lateralmente. La morfologia dell'interno va a strutturare quella che è la forma esterna dell'auto. Grazie alla pianta a delta nella zona anteriore si va a riproporre quello che è il single frame Audi che diviene un device aerodinamico che convoglie il flusso d'aria nelle fiancate. Allora la nostra macchina abbiamo deciso di renderla ancora guidabile dal nostro utente, di conseguenza prevederà l'utilizzo di un volante così come le macchine classiche, ma in ogni caso sarà una macchina con un'autonomia di livello 4. Oltre al posto principale che comunque è dotato del massimo comfort, questa macchina presenta anche due posti posteriori in caso di dover portare colleghi con sé durante magari qualche meeting o all'occorrenza questi sedili si possono anche tirare su in modo da creare più spazio di carico per eventuali bagagli oppure in caso di non utilizzo di questi posti posteriori. Nel 2030 secondo la nostra vision gli uffici saranno sempre meno materiali e quindi verranno smaterializzati e sempre più digitali. Di conseguenza il lavoro potrà venire svolto in qualunque luogo si voglia ad esempio appunto come nella nostra macchina.